L'unità complessa di andrologia medica dell'Aquila è da oggi uno dei 24 centri di formazione in Europa. Dei 24 centri, 6 sono presenti in Italia e tra questi opera con grande successo anche il centro clinico Aquilano che è diventato un polo di eccellenza importante. A seguito di questo riconoscimento, il centro universitario Aquilano ospiterà nei prossimi giorni 70 specialisti andrologi provenienti da ogni regione della Russia per seguire un corso di aggiornamento in andrologia. L'iniziativa è stata illustrata dal professor Sandro Francavilla, neocoordinatore della Commissione Scientifica della Società Italiana di Andrologia e Medicina Sessuale. Un'organizzazione russa seleziona alcuni centri in Europa dove poter inviare medici specialisti per progetti di formazione. Sino ad ora ne sono stati organizzati due in Italia e credo un altro paio in Europa e l'Aquila è stata scelta come il prossimo centro di formazione in andrologia e accoglieremo circa 80 medici russi provenienti da ogni luogo, da ogni regione russa per due giorni saranno con noi. L'aspetto interessante è che questa attività formativa è stata riconosciuta anche dalla European Academy of Andrology e non è più una nostra specifica iniziativa ma è diventata un corso ufficiale di questa importante istituzione. Quindi gli iscritti partecipanti oltre a stare con noi avranno un titolo riconosciuto a livello europeo. In questa nuova disciplina medica, secondo il professor Sandro Francavilla, è importante anche la formazione. L'aspetto formativo è fondamentale in questa disciplina che è tutto sommato è molto nuova. L'andrologia è così una delle ultime discipline mediche riconosciute. è estremamente specialistica quindi richiede un livello formativo che le università nei corsi convenzionali non riescono a fornire e quindi si tratta di una formazione superiore e quindi non può che essere fornita da centri che si occupano specificamente di questo nuovo settore della medicina. Per questo credo che le iniziative hanno ormai una valenza europea e vengono selezionate soltanto alcune realtà. La prevenzione invece quanto è importante? Beh, questo è un aspetto ora clinico. È chiaro che l'attività formativa didattica è collegata alla realtà clinica. L'andrologia si occupa di un aspetto della medicina nuovo ma importantissimo che è appunto quello che serve per preservare sia la fertilità ma anche la sessualità dell'individuo. In questo ambito la prevenzione è fondamentale a partire dall'età, direi, infantile. Cresce e si rafforza il ruolo di leadership dell'Università e dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila come ci spiega il professor Felice Francavilla dopo il riconoscimento internazionale assegnato al centro universitario abruzzese. Insomma si tratta di un buon riconoscimento in quanto esso viene dato a centri di eccellenza in ambito europeo in cui si possano formare degli andrologi clinici con una certificazione che vada per tutta l'Europa. Noi da un punto di vista andrologico svolgiamo molte funzioni che sono importanti per il territorio. Siamo il centro di riferimento per quanto riguarda tutte le problematiche andrologiche mediche che ci sono, andrologiche mediche che include problemi di infertilità maschile, tutte le problematiche di ordine endocrinologico. Abbiamo una banca del seme che è una delle poche banche pubbliche dell'Italia centrale in cui viene conservato il seme di pazienti, soprattutto pazienti oncologici che devono essere sottoposti a chemio, radioterapia, che potrebbe sitare in una infertilità permanente. In alcuni casi, non sempre.